Buongiorno a tutti, sono Valeria Silvia, responsabile ADV del tour operator incoming Pantelleria Island. Ci troviamo a Pantelleria, come potete vedere. Per quanto riguarda noi, possiamo dire che da più di 10 anni lavoriamo per l'incoming dell'isola, organizzando anche voli charter dal nord Italia diretti su Pantelleria. Che cosa stiamo facendo in attesa della ripartenza? Durante questo lungo periodo di quarantena abbiamo tutto sulla destinazione. L'abbiamo fatta conoscere sempre di più attraverso i suoi molteplici aspetti, le sue peculiarità, cercando di far nascere una sorta di curiosità nei confronti dell'utente che ci segue soprattutto sui social. Che cosa faremo invece per promuovere le prenotazioni a partire da domani? Dobbiamo innanzitutto dire che la nostra programmazione non ha subito variazioni. Ci auguriamo quindi di poter ripartire il prima possibile. L'obiettivo però è ripartire con azioni che non puntino semplicemente ad una variazione delle penali di cancellazione. Vogliamo infatti garantire al cliente maggiori sicurezze anche a livello igienico sanitario se possibile, adottando misure specifiche per la pulizia degli ambienti su tutte le nostre strutture, sia alberghiere che estralberghiere. Questo permetterà al cliente senz'altro di essere più sereno in fase di prenotazione. Allo stesso modo ci stiamo muovendo per i ristoranti, con la creazione di un'app che permette al cliente di prenotare il proprio turno, sia nel caso di ristorazione alberghiera che nel caso dei ristoranti distribuiti su tutta l'isola. Insomma, l'obiettivo è puntare a rassicurare il cliente e a garantire delle vacanze serene sotto ogni punto di vista.